allora zima il primo block devil sa arrivare a perugia si è arrivato penso una settimana prima dell'inizio della preparazione come procede qui l'ambientamento con una nuova città con dei nuovi compagni ancora pochi si siamo arrivati 17 di agosto per per conoscere un po di posto in tranquillità perché ogni anno andiamo sempre un giorno prima poi diventa un casino niente mi trovo benissimo qui con la famiglia e siamo contenti di essere qui a perugia una bellissima città niente in allenamenti un po un po dura adesso stiamo facendo tanta fisica un po meno tecnica diciamo ma tantissima fisica siamo in tre quindi molto dura senti la casa è una è una sola l'italia la possiamo definire un po una seconda casa per te ormai sono diversi anni che sei qua no sì sì sicuro io questo mio sesto anno penso in italia quindi mi sento sicuramente come a casa mi piace molto il paese soprattutto il vostro cibo che cosa in particolare che questo mi incuriosisce io io mangio tanta pasta quindi qualsiasi pasta per me perfetto senti torniamo a parlare pallavolo anche se mi piacerebbe approfondire l'argomento parliamo un attimo della prossima stagione perché purtroppo te lo dico purtroppo non sarà il protagonista agli europei quindi ti puoi concentrare subito sulla prossima stagione sì sicuro purtroppo non ci siamo qualificati era per noi è una situazione difficile adesso in nazionale però stiamo crescendo da quest'anno abbiamo un nuovo allenatore Emanuele Zanini italiano quindi speriamo bene in futuro inizio sì con i miei nuovi compagni qui speriamo di fare una buona stagione daremo sicuro il nostro tutto il nostro massimo e speriamo bene grazie 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 sì ma